E' polemica a Firenze dopo che il logo di una carta di credito è stato proiettato sia su Ponte Vecchio che sull'Istituto degli Innocenti in occasione del Festival Flight 2021, promosso da Palazzo Vecchio e organizzato da Muse per le festività natalizie. Il caso è stato sollevato da due consiglieri comunali di sinistra Progetto Comune, Antonella Bundu e Dimitri Palagi. Da Palazzo Vecchio, riporta la stampa, era stato spiegato che la soprintendenza ai beni architettonici avesse dato l'ok al progetto. Il nostro ufficio ha autorizzato delle installazioni luminose, le illuminazioni di monumenti per quanto riguarda il periodo delle festività e in nessun modo sono state autorizzate la posizione o la proiezione di loghi commerciali o comunque di segnali dello sponsor come nel caso del Palazzo degli Innocenti. Oggi l'intervento del sindaco Dario Nardella che afferma, per quanto Muse ci abbia riferito che si è trattato di una proiezione di pochi istanti, ritengo che le immagini degli sponsor non siano appropriate a quei luoghi. Dall'anno prossimo realizzeremo un progetto di illuminazione dei monumenti nuovo e vieterò la presenza degli sponsor nelle proiezioni sui monumenti. Troveremo altre forme di riconoscimento per i sostenitori del progetto. E intanto la soprintendenza pensa anche a una possibile denuncia. Se naturalmente ravviso che vi siano degli estremi procederò sicuramente in questo senso. Un utilizzo non autorizzato del monumento e spero anche che i proprietari dei vari monumenti avessero a loro volta dato l'autorizzazione a utilizzare le facciate dei loro edifici perché fungessero da schermi.